Il Vescovo a merito Il Vescovo a merito Ben trovati a nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Si sono aggravate nelle ultime ore le condizioni di salute di Monsignor Gastone Simoni, Vescovo a merito di Prato, che si trova ricoverato all'ospedale di Careggi in seguito ad un ictus avvenuto una settimana fa. Gli accertamenti diagnostici hanno purtroppo rivelato una situazione generale molto critica. Stamani su alcune chat di Whatsapp si è diffusa la notizia del suo decesso, notizia infondata pur restando grave il quadro clinico. Nel mese di aprile Monsignor Simoni aveva avuto un primo ricovero ospedaliero a seguito di seri problemi neurologici poi superati. Adesso il nuovo ricovero. Il Vescovo di Prato Giovanni Nerbini è informato con una nota ai sacerdoti della diocesi, chiedendo di accompagnarlo in questo momento tanto difficile con la propria preghiera, oltre che con l'affetto che da sempre i pratesi hanno manifestato nei suoi confronti. Monsignor Gassone Simoni, lo ricordiamo, ha compiuto 85 anni lo scorso 9 aprile e ha guidato la diocesi di Prato dal 1992 al 2012. È stato celebrato oggi nella Chiesa di Santa Maria della Pietà il funerale del professor Maurizio Fioravanti scomparso lo scorso 19 agosto. Ai nostri microfoni il ricordo dell'istituzione dei suoi ex studenti. Un professore che si donava e donava il proprio sapere agli studenti è uno studioso insaziabile e attento alla comunità in cui viveva. È questo il ritratto che è emerso del professor Maurizio Fioravanti, costituzionalista, preside della facoltà di giurisprudenza a Firenze ed ex presidente del PIN nel giorno del suo funerale, che si è svolto questa mattina nella chiesa di Santa Maria della Pietà. Era una persona molto equilibrata e uno studioso fantastico e quindi credo che questa è una città che gli debba molto, perché se la città è cresciuta è anche perché lui ha saputo portare avanti il polo universitario, fortificandolo e rendendolo quello che adesso è una grande opportunità per tutti i pratesi. Profondo cordoglio anche da parte della presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato Diana Toccafondi e di tutti i consiglieri. Almeno per quello che ho potuto poi anche personalmente vedere dentro la Fondazione Cassa di Risparmio, dove è stato vicepresidente con Fabio Romagnoli, poi è stato nel consiglio di indirizzo con Franco Bini e poi anche appunto ha seguito tutta la vicenda della riforma. Insomma è stata veramente una persona che ha dato generosamente tanto del suo sapere ed era veramente tanto il suo sapere. Presente è anche una rappresentanza della giunta del Comune di Prato che aveva conferito il gigliato d'argento al professor Fioravanti. È stata una decisione dell'amministrazione comunale e del nostro sindaco di conferire nel 2018 questo riconoscimento importante al professor Fioravanti. alla luce non soltanto del suo impegno straordinario in ambito accademico che è riconosciuto a livello nazionale e internazionale, ma anche e soprattutto come una figura di riferimento per la nostra città e per il ruolo che ha ricoperto come presidente del PIN che ha fatto crescere e rafforzare il nostro polo universitario sempre in sinergia con non solo l'amministrazione comunale ma direi con tutta quanta la nostra comunità pratese. E poi c'è il ricordo dei suoi studenti. Che esami c'è dato? Storia del diritto medievale che è il primo esame che si dà alla facoltà di giurisprudenza e poi uno facoltativo che mi serviva per la tesi, mi sono lavorato in storia del diritto che è stato storia delle costituzioni medievale moderne. Sicuramente l'eredità più grande che può aver lasciato a uno studente il professore è quella della curiosità con cui si interfacciava con noi studenti. Era una persona sempre curiosa, sempre vogliosa di imparare dal suo interlocutore che fosse uno studente, che fosse una persona più adulta, che fosse un collega, che fosse uno studioso. Apriamo ora la pagina dedicata alla politica. L'ultimo ha affidato il collegio uninominale della Camera alla pratese Erika Mazzetti, deputata uscente di Forza Italia. Il listino proporzionale forzista per la Camera vede come capolista Deborah Bergamini. Tra i candidati di Forza Italia figura un'altra pratese, l'ex assessore comunale Rita Pieri, al secondo posto del listino proporzionale al Senato capitanato da Massimo Mallegni. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, il senatore uscente Patrizio Lapietra è il capolista del collegio plurinominale del Senato, oltre che nome di punta della coalizione per l'unico grande collegio toscano dell'uninominale al Senato. Mentre la dirigente di partito, la pratese Chiara Laporta, figura in ottima posizione nel plurinominale della Camera, capitanato da Giovanni Donzelli. Il pratese Daniele Spada compare al terzo posto del listino proporzionale della Camera per la Lega, di cui è capolista Andrea Barabotti, compagno dell'europarlamentare Susanna Ceccardi e responsabile organizzativo regionale del partito. Nel collegio del proporzionale del Senato, il Carroccio, schiera il deputato ed economista Claudio Borghi. Per la quarta gamba della coalizione, la lista a noi moderati, il capolista del proporzionale alla Camera è il deputato uscente Giorgio Silli, mentre il coordinatore regionale di Noi con l'Italia, Sandro Dini, è capolista del plurinominale del Senato. E poi ci sono i nomi della coalizione di centrosinistra, della lista di sinistra Unione Popolare, del Terzo Polo e del Movimento 5 Stelle. Sentite. Dopo le liti interne, la campagna elettorale. È chiaro ormai da giorni il quadro dei candidati di centrosinistra. Tommaso Nannicini, deputato uscente e originario di Montevarchi, è il nome scelto dal segretario nazionale eletta per il collegio di Prato, Pistoglia e Mugello, dell'uninominale alla Camera. Mentre il listino proporzionale, aperto da Anna Scani, schierata anche in Umbria, ed è composto da Marco Furfaro, originario di Aiana, dalla senatrice pistogliese Caterina Bini, è in quarta posizione, cosiddetta di servizio, dall'ex sindaco di Poggia a Caiano, Marco Martini, unico pratese in Lizza. Il collegio proporzionale del Senato vede come capolista il senatore uscente di Vinci, Dario Parrini, mentre all'uninominale del Senato, il PD, ha scelto la versiliese, Anna Graziani. Riempite anche le caselle del cosiddetto terzo polo, ovvero Italia Viva e Azione, che corrono insieme con un'unica lista e che non schierano nemmeno un pratese in Toscana. Il collegio uninominale, che comprende la provincia di Prato, per la Camera, tocca al pistogliese Edoardo Fanucci di Italia Viva, mentre la senatrice Barbara Masini, di Azione, è all'uninominale del Senato. Il listino proporzionale della Camera vede come capolista il renziano Francesco Bonifazi, mentre il capolista dell'unico grande collegio toscano, proporzionale Matteo Renzi, seguito dall'ex berlusconiana Maria Stella Gelmini. Appuntato su una pratese Giuseppe Conte, l'attivista storica Chiara Bartalini, è candidata per il Movimento 5 Stelle nel listino proporzionale della Camera del collegio che comprende Prato, in seconda posizione, subito dopo il vicepresidente del Movimento, Riccardo Ricciardi. Pratese di adozione per motivi di lavoro, ma mugellana di origine, è la candidata all'uninominale della Camera per Unione Popolare, la lista che fa riferimento al rifondazione comunista. Si tratta della dipendente della CGL di Prato, Simona Baldanzi. Ristoranti e bar schiacciati dai costi energetici, così non si può lavorare, denuncia Confesercenti che si dice preoccupata per quello che succederà in autunno. Vediamo. Energia elettrica alle stelle, ormai quasi senza controllo e siamo solo ad agosto. Il peggio, con il rientro dalle ferie nel prossimo autunno, deve ancora venire. A lanciare l'allarme è la FIEPET che rappresenta i ristoranti e bar associati a Confesercenti Prato. Un settore, quello della ristorazione, tra i più colpiti durante la pandemia, che viene da due mesi, giugno e luglio, che non hanno dato i frutti sperati. Sono stati due mesi difficili, dovuti anche al clima, al fatto che la gente voleva andare anche un po' via, giustamente. Per una città che non è turistica diventa un problema. Se a questo si aggiunge il fatto che i costi sono notevolmente aumentati, la frittata, come si suol dire, è fatta. Perché non è solo il problema dell'energia che arriva a cifre improponibili. Parlavamo con un collega l'altro giorno che pagava mediamente 1.500 euro al mese di luce e è arrivato a pagarne 2.990, che non sono il doppio, ma poco ci manca, per un decimale. Per cui è un grosso problema. E non è solo il problema dell'energia, è che anche la roba, e chi va a fare la spesa, se ne accorge, costa di più. La preoccupazione è soprattutto per i prossimi mesi, per l'autunno? Sì, senz'altro. E l'autunno i costi li evitano naturalmente, perché comincia a fare più freddo, quindi riscaldamenti accesi e così via. Sarà un grosso problema. Se qui nessuno decide di mettere mano alla questione, sarà un grosso problema da settembre in poi. Da qui l'appello alle istituzioni nazionali e locali. Il governo deve comunque ridurre i costi dell'energia, fare una moratoria, facciano quello che vogliono, i politici sono loro, hanno dei tecnici in grado di poterlo fare. Per quanto riguarda il comune, è quello di abbassare o azzerare le tasse comunali. Non tanto il suolo pubblico, anche se si prevede che da dicembre potremmo tornare a pagarle, ma quanto tari è quello che gira intorno tutto alle tasse comunali. Ognuno faccia la sua parte e forse riusciamo a uscirne fuori, se no la vedo molto dura. Ed è il momento delle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Un saluto e ben trovati. Torno a farci visita un gradito ospite, l'anticiclone dell'Azzorra, lo possiamo vedere anche dal satellite alle mie spalle, che comincia a estendersi sull'Europa, garantendo tempo via via più stabile. Per la giornata odierna siamo ancora sotto l'influenza di una perturbazione che ci ha interessato nei giorni scorsi, con ancora un po' di instabilità, la vediamo, che tende a spostarsi più verso la Grecia. Per quanto riguarda la giornata di oggi, abbiamo indicato un cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio sulle zone interne, con aumento della nuvolosità soprattutto sui rilievi dove non si escludono gli ultimi locali rovesci. Le temperature attorno ai 32-33 gradi, per lo più in media, eventi deboli di maestrale con mare poco mosso. La giornata di domani, poi come detto, il tempo sarà più stabile, quindi una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature in leggero aumento, con valori fino a 33-34 gradi nel pomeriggio sulle zone interne. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, augurandovi una buona giornata. E con il meteo è tutto, vi ricordiamo alle 18 in diretta dalla Chiesa di Santa Marea del Soccorso la celebrazione della Santa Messa. L'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per averci seguito e vi ringrazio per averci seguito e vi ringrazio per averci seguito.